Buon pomeriggio, oggi è martedì, 6 dicembre, sono le 14.05, partiamo lievemente in ritardo per un lieve e un banale problema tecnico. Scusatemi la voce, il tono della voce che non è chiarissimo, ma purtroppo anche i medici si influenzano e probabilmente mi sarò influenzato e mi sia abbassata leggermente la voce, ma cercherò comunque di usare un tono che sia più che ascoltabile. Come la volta scorsa mi fa piacere ringraziarvi, vi dico pubblicamente grazie per quello che avete fatto nella settimana. 215 di voi hanno condiviso il filmato, che vuol dire condividere il filmato? Vuol dire dare l'opportunità a tutti gli amici che voi avete nel vostro Facebook, avete dato l'opportunità a questi amici di ascoltare, di vedere e magari di trovare utile questi incontri. La volta scorsa abbiamo parlato dell'autopalpazione, di come si autopalpa, tra le varie domande che abbiamo fatto, la mammella nelle donne, che è un momento importantissimo che tutte le donne devono fare già dai 25 anni in su. E ha riscosso un enorme successo di ascolti e comunque è stato evidentemente recepito come una cosa molto utile. Devo rispondere, e con questo comincio la giornata di oggi, a una nostra amica che mi ha domandato un messaggio con questo, lo leggo proprio esattamente come lo ha scritto. Perché a noi donne fa impressione l'autopalpazione? Paura? Ecco, è una domanda che tutte le donne si pongono e che alle quali io cercherò, nei limiti delle mie possibilità, di rispondere. Non bisogna aver paura di fare l'autopalpazione. Permettetevi di dire che forse fa più paura non fare l'autopalpazione, perché la prevenzione è il primo momento importante per la nostra salute. Non abbiate paura. Una palpazione non deve essere raggiunta con angoscia o con paura. È una mossa, è una manovra assolutamente semplice che dovete fare. Se avvertite qualcosa, statene certe. Non vuol dire che avete trovato sicuramente il brutto male, cosiddetto. Può essere nulla, anzi quasi sicuramente sarà nulla. E ne dovrete parlare con il vostro medico. Il medico di base che è sempre il vostro punto di riferimento, a quale vi dovete rivolgere qualora abbiate qualsiasi dubbio e che dovete andare a risolvere. Con questo vi invito a fare nuovamente questo. Mi permette anche di rinnovarvi l'invito a formulare le domande durante la settimana, durante questa settimana. Avanti Paola. Allora, prima domanda. Dopo intervento di emorroidectomia non riesco ad andare in bagno da alcuni giorni. Mi devo preoccupare? Dopo un intervento di emorroidectomia, ha parlato di emorroidectomia, per cui sembrerebbe che la paziente è stata operata di un intervento escissionale, cioè gli interventi che si fanno sulle emorroidi sono di vari tipi. Quando si parla di emorroidectomia, prevede l'asportazione delle emorroidi. È certamente un intervento chirurgico risolutivo, ma che nel post-operatorio è un po' più impegnativo per il paziente, perché è un intervento che è comunque doloroso. Che cosa succede? Succede che dopo questi tipi di interventi, il paziente deve comunque sottoporsi a una terapia contro il dolore, per gestire nel miglior modo possibile il dolore, perché in questo modo riesce ad andare di corpo più facilmente e via dicendo. Non ci sono controindicazioni ad andare di corpo, non dovete aver paura di andare di corpo, non può succedere nulla. Gli interventi chirurgici di emorroidectomia comunque prevedono spesso, quasi sempre, l'allegatura del gavoccio all'emorroidario, per cui i rischi non ce ne sono, però c'è il dolore. Il dolore che cosa fa? Innesca un meccanismo di difesa che non vi permette o comunque vi blocca la spinta per andare di corpo e questo è soltanto legato al dolore e alla paura di fare qualche danno. Danni non se ne possono fare, la paura purtroppo c'è ed è comprensibile, è giusta purtroppo, però mettetevi sereni, cercate di andare in bagno nel modo più semplice e più naturale possibile. Io consiglio sempre a tutte le persone che opero, magari una mezz'ora prima di andare in bagno, di prendere delle gocce di un antidolorifico in modo tale potete andare ad evacuare, ad eliminare quello che dovete eliminare con un pochino più di serenità, per cui tranquillizziamo la nostra paziente, assuma magari qualche sostanza per rendere le feci più morbide, vada di corpo normalmente, sappiate che andare di corpo troppo duro, troppo lento è nello stesso caso un errore, bisogna andare di corpo con feci poltacee, normalmente, senza nessun problema, non si può creare nessuna danno. Questa è la prima cosa che la nostra amica si deve mettere in testa. La seconda domanda, Paola? Buongiorno dottore, ho una domanda. I calcoli della colecisti possono passare solamente con la dieta? No, purtroppo, mi dispiace deludere la nostra amica, i calcoli della colecisti, una volta che ci sono, non possono essere più gestiti con la dieta, una volta che si sono formati si rimangono là. I calcoli della colecisti, a seconda delle dimensioni, possono più o meno dare dei fastidi, dei fastidi che possono sfociare anche in fenomeni infiammatori importanti, tipo delle colecistiti acute e delle coliche biliari, per cui i calcoli della colecisti sono una patologia non medica, ma assolutamente di pertinenza chirurgica. Con la tecnica chirurgica laparoscopica, oramai, l'intervento chirurgico di colecistettomia è un intervento che è veramente molto poco impegnativo per il paziente. È impegnativo per il chirurgo, non per il paziente. Il paziente nell'arco di 24 ore riprende l'alimentazione e in un paio di giorni, in due o tre giorni, torna a casa senza nessun problema e con soltanto quattro buchini molto piccoli di circa un centimetro sulla pancia, dalle quali il chirurgo è entrato con la telecamera e con i ferri per asportare questa colecisti. Purtroppo, una volta che il calcolo si è formato, non si scioglierà, non verrà più eliminato, rimane lì ed è un rischio mantenerli. Il consiglio è di rimuovere la colecisti, va rimossa la colecisti. Posto un calcolo piccolo e un calcolo più insidioso, più pericoloso per creare delle coliche biliari, per cui è lì il caso proprio di intervenire chirurgicamente. Avanti, Paola. Gentile dottore, mi hanno diagnosticato qualche mese fa un'ernia inguinale. Mi consiglia l'intervento per via laparoscopica? L'intervento di ernia inguinale per via laparoscopica è un intervento che ormai è ben standardizzato e si effettua sempre in tutte le strutture chirurgiche per via laparoscopica. Io come chirurgo generale che effetta sia chirurgia laparoscopica che laparotomica, cioè sia quella che fa il taglio sulla pancia che i taglietti con la telecamera per intenderci, per parlare un linguaggio che sia il più possibile accessibile. Penso che in caso di una ernia inguinale monolaterale in un paziente che sta bene, che non ha problemi, anziano, che magari non sopporta bene un'anestesia generale o che ha dei problemi risparatori, cardiologici, l'intervento tradizionale è sempre un intervento, io direi quasi di prima scelta, nell'ernia inguinale monolaterale in pazienti selezionati. La chirurgia laparoscopica deve essere sicuramente indicata a tutte le persone che sono affette da un'ernia inguinale bilaterale, magari che non hanno problemi cardiologici, respiratori, perché? Perché la chirurgia laparoscopica prevede un'anestesia generale, cioè il paziente deve dormire, deve essere intubato e deve avere, per così dire, prendetelo per buono, è un termine tecnico, deve essere mio rilassato, cioè deve avere dei farmaci che rilassano la muscolatura e per cui anche la muscolatura respiratoria, altrimenti non si potrebbe creare quella cavità utile per poter operare. È chiaro che se ci sono delle controindicazioni a questo tipo di anestesia o ancor più se non è proprio consigliata, l'intervento tradizionale può essere tranquillamente fatto, anzi io dico che percentualmente nell'ernia inguinale monolaterale ancora oggi si sceglie la via tradizionale, per cui assolutamente sì, fate l'intervento chirurgico per ernia inguinale, patologia che tra l'altro vi consiglio di non tenere, perché comunque interferisce con la vostra normale attività fisica, sportiva e via dicendo. E aggiungiamoci anche che l'ernia inguinale, seppur piccola, è sempre una patologia insidiosa. L'ernia si può andare comunque a intasare, si può andare a incarcerare, può creare dei problemi anche seri, per cui nel momento in cui è stata fatta diagnosi dal vostro medico di base di ernia inguinale, rivolgetevi tranquillamente e serenamente ad un chirurgo che vi consiglierà la metodica sicuramente migliore. Andiamo avanti. Mi è venuto un laparocele, vi consiglia di rioperarmi o lo posso tenere? Si tratta di un'altra ernia, queste si chiamano ernie incisionali, cioè sono ernie che avvengono dopo un intervento chirurgico laparotomico o anche laparoscopico, perché un laparocele può avvenire dovunque sia stato fatto un taglio che abbia oltrepassato la parete muscolare a dominare il laparocele. Quali sono i consigli? Allora, se il laparocele non dà fastidio ed è un problema soltanto legato a un disformismo estetico, allora io direi non rischiamo l'intervento chirurgico, nel senso che se non è necessario l'intervento per la laparocele cerchiamo di procrastinarlo e magari di evitare che la laparocele si ingrandisca. Perché dico questo? Perché comunque andare a rioperare un laparocele è comunque un atto operatorio che ha i suoi rischi e trattandosi di una patologia comunque benigna che può essere gestita anche molto bene dal paziente, io direi di aspettare di vedere. Chiaro che se il laparocele dà fastidio vista proprio fisiognomico un problema molto grande per il paziente, allora con serenità insieme al vostro chirurgo potrete sicuramente prendere in considerazione l'intervento chirurgico. Io penso che siamo già arrivati, ci danno il tempo limite per queste dirette televisive, anche perché se no questi incontri che noi facciamo ogni settimana diventano pesanti, diventano meno accessibili, per cui mi fermerei qua. Però è di poter trovare magari in queste brevi risposte semplici qualcosa che possa